Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stappa di oggi 18 novembre. Ci sono un sacco di cose molto divertenti sui giornali di oggi. Sono molto divertenti perché riguardano finalmente come ai vecchi tempi della prima repubblica qualche scandaletto e alcune cose molto tragiche come ovviamente la questione dell'ILVA. Tragiche perché in realtà sono gestite in maniera tragica e le loro conseguenze saranno tragiche. Permettetemi di fare una cosa che io faccio ormai in queste settimane direi non sempre, quindi non vi annoio poi così tanto, e cioè la pubblicità del mio libro, Le tasse invisibili, ristampato per la terza volta. Non mi trovate a Book City, questo ve lo dico subito, non mi hanno invitato, la mia casa editrice è stata yes, è riuscita forse a non riuscirmi ad invitare, non voglio parlare male di chi mi edita ovviamente, comunque io a Book City non c'era e non ci sono nei giornali che leggete voi con qualche lodevole eccezione. Ringrazio, ringrazio il Tempo, ringrazio il giornale di cui sono vice direttore, ringrazio Sandro Iacometti su Libero che mi ha fatto una bella recensione, ringrazio il Foglio, Claudio Cerasa mi ha fatto una pagina intera nonostante le critiche che muovo il Foglio, fantastico, così come ringrazio Michele Brambilla del Quotidiano Nazionale. Per il resto zero, ma è normale, se io mando a quel paese i giornalisti e faccio le pulce a tutti mi posso aspettare che Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 ore, alla stampa pubblichino la recensione di questo libro, no non me lo posso aspettare, ogni volta che trovo qualcosa non dispiacevole nei miei confronti mi stupisco moltissimo, ma tutto questo per dirvi che l'unica recensione che vale è quella vostra, queste pagine, le pagine mie di Facebook e il mio sito nicolaporro.it fanno 2 milioni, 2 milioni e mezzo di utenti unici al mese, valgono più di un quotidiano, quindi ragazzi forza, se non vi piace è soltanto colpa mia, non si piagnucola sulle recensioni che non ci sono perché questa roba che abbiamo a disposizione, Facebook e il sito nicolaporro.it in realtà disintermediano forse anche la televisione, ringrazio sulla televisione di casa mia, cioè di Mediaset, l'unica persona che mi viene da ringraziare è Barbara Palombelli che è l'unica in tutta la televisione di Mediaset ad avermi recensito il libro. Grazie comunque, grazie Fausta, Daniela, tutti quelli che sono in collegamento con noi, andiamo sulle cose serie! Beh, la cosa più seria della giornata sapete qual è? È la questione del ministro Trenta, l'ex ministro Trenta che è diventata ministro un po' per caso, cioè perché nominata dal Movimento 5 Stelle, bene, a un certo punto si becca un appartamento di servizio, aveva una casa al pigneto, ma la casa non andava bene e quindi ne ha presa un'altra e l'altra gliela paghiamo in una certa misura a noi perché era la casa di servizio del ministro. Il problema è che i ministri quando finiscono di fare i ministri perdono anche la casa, forse per questo la ministra voleva continuare a fare il ministro, ma non c'è riuscita, manco sottosegretaria l'hanno fatta! E allora, caro Orson, sapete che succede? Che la casa l'ha fatta assegnare al marito e quindi io vi dico riflettete un attimo, la casa assegnata a un ministro è esattamente la casa di servizio che assegni a un ufficiale dell'esercito, neanche un generale a tre botte? Qualcuno che ha un po' di senso comune, pensa che siano equivalenti come prestigio all'interno della generarchia militare il ministro e non un generale, un ufficiale? Ma fatta questa premessa che è indifferente, ma perché? Ma perché dobbiamo pagare la casa al marito della ministra, ex ministra 30, ce lo spiega alla 30 oggi, dice senti io ho una casa a Roma, mio marito ce l'ha in un'altra città, io ce l'ho a Roma, ma a casa mia avevamo dei problemi di sicurezza, dei problemi di sicurezza, dei problemi di sicurezza, senza fare il fenomeno, conosco alcuni ministri passati della difesa e se qualcuno conosce un pochino il mio curriculum sa quali di questi ministri che continuano a vivere nella casetta in cui vivevano da professori universitari e lì i problemi di sicurezza non c'erano, certo che c'erano, poi ha detto ieri su Facebook che la sua casa era troppo lontana dal ministero, è una roba fantastica, oggi lo faremo, stasera a Quarta Repubblica vi faremo vedere quanto è lontana la casa dove abitava lei di proprietà e quanto è lontana dal ministero la casa che si è fatta concedere, ma voi dite esagerato, sapete che cosa riesce a dire oggi? Prima vivevamo, io e mio marito uno sull'altro, 3,5 vani al pigneto e oggi invece abbiamo una vita di relazioni, cioè in sei mesi è cambiata la sua vita, in 14 mesi di governo è cambiata la sua vita, viviamo in una vita di relazioni e quindi è evidente che abbiamo bisogno di più spazio, io dico è una cosa stupenda, vuoi più spazio? Compratelo, affittatelo, ma perché è un problema mio lo spazio che vuole la vita di relazioni della 30, è una roba che ti fa venire il sangue al cervello e allora voi dite il Movimento 5 Stelle sarà indignato, sì sarà indignato, ma sapete che cosa risponde Di Maio, toc toc, Di Maio l'avete nominata voi, non io ministro della difesa, ma lasci subito quella casa, lei ha detto oggi che non intende lasciarla, tengo a sottolineare, giuro, il Di Maio pensiero, tengo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle non sapeva niente, è una casa a sua insaputa, l'ho già sentita dire questa cosa, tengo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle non sapeva niente, ma non c'era qualche mini sottosegretario, qualcuno alla difesa del Movimento 5 Stelle, forse non sapeva niente, lei non è più nostro ministro, insomma per Di Maio è una casa a sua insaputa, poi vorrei chiedere un'altra cosetta che mi è venuta in mente, ma c'è sul fatto quotidiano il giornale del Movimento 5 Stelle, il portavoce di Conte, Travaglio, oggi secondo me farà una campagna come quella che fanno il giornale Libero, i giornali che hanno campato di affittopoli, cosa faccio? Prendo il fatto quotidiano di oggi e leggo infatti casa di carta, ma in realtà riguarda il piano di Renzi ed è un blocchettino del fondo di Travaglio, voi pensate che sulla prima pagina del fatto quotidiano ci sia un riferimento alla casa presa a danno dei contribuenti o di altri marescialli o di altri generali, la questione è 30, non c'è un boxino di 10 righe sul giornale, ma non la prima pagina, siamo tutti uguali, siamo noi giornalisti tutti uguali, è come insomma, come posso dire, è come una storiella d'amore di Berlusconi, non la trovate sul giornale e una storiella di case di Di Maio non la trovate, o di Di Maio scusatemi della 30, non lo trovate sul fatto quotidiano, affittopoli grillina, gode come un riccio il giornale che ricorda la casa di Dessì pagata 7 euro, la mamma della traverna che aveva la casa popolare nonostante la figlia fosse una senatrice, quindi magari se c'è una figlia senatrice fate pagare un affitto della figlia, non dei contribuenti, e poi gli amici di cittadinanza, gli attici di cittadinanza è lo straordinario titolo di Libero. Appello contro le tasse! Soltanto il Corriere della Sera scova questo appello contro le tasse del Premier Conte. Nessun altro giornale, il Corriere della Sera, che peraltro ha tirato fuori lo scoop della 30, in realtà riesce a scovare questo appello contro le tasse di Conte di cui non c'è traccia sugli altri giornali. Questione giornata invece è Zingaretti che dice bisogna fare lo iussoli e Messina dice sul Repubblica, ma ragazzi, ma non si capisce perché il PD non lo voti questo iussoli, il Movimento 5 Stelle non lo voti pure iussoli perché i suoi, come si chiamano, i suoi elettori al 71% lo vogliono lo iussoli, scusatemi lo iussculture. Allora, queste certezze di Messina ce l'ha solo Messina, o i sondaggisti per carità, ma il punto fondamentale è che c'è un po' di ragionamento su questa cosa, veramente Zingaretti vuole lo iussculture e io sono ben contento, non per lo iussculture perché quelli in questo vanno a schiantarsi. Sull'Ilva, guardate, ci sono le solite trick e track della giornata, la cosa più interessante è che i carabinieri verificano se Mittal ha depredato l'azienda. Io su questo poi ne scriverò un piccolo, spero che il giornale mi pubblichi un piccolo saggetto, ma non è un saggetto, insomma, grazie al Berico, grazie le tasse invisibili lette a Dubai. La cosa straordinaria, sapete qual è? Che questi pensano i Mittal che hanno depredato l'azienda e non si rendono conto che l'azienda è stata depredata e uccisa dallo Stato. Abbiamo perso miliardi di euro nella gestione statale, l'unica gestione che non l'ha fatta perdere è quella deriva, poi sono arrivati i commissari e abbiamo perso 4 miliardi di patrimonio netto per l'incapacità di gestire ovviamente un'azienda che non è tanto colpa dei commissari, ma quell'azienda sostanzialmente commissariata. Nordio sul messaggero, ve lo segnalo, bellissimo il suo pezzo, in cui dice, raccontando un suo caso veneziano, come in realtà i magistrati alla fine debbano applicare due leggi contraddittorie o loro stessi applichino due leggi contraddittorie. Da una parte sequestrano l'alto forno per farlo spegnere perché non sono state realizzate le prescrizioni ambientali, dall'altra dicono se ti azzardi a spegnere l'alto forno ti arresto, beh è una roba pazzesca. Intervista Salini, costruttore italiano che ha salvato la sua azienda facendo finta di salvarne un'altra, ma comunque sia ha creato questo grande polo italiano di aziende di costruzioni e di infrastrutture che però, uomo intelligente, ci spiega. In Italia per fare l'autostrada del sole che ci abbiamo messo 5 anni, io per fare un tombino ce ne impiego 6. Per fare le autorizzazioni e tutte queste bagianate qua che in Italia sono sempre fatte a vostra tutela, così come chiudere l'ilva è a vostra tutela, così come la sugar tax è a vostra tutela, così come le tasse sulla plastica sono a vostra tutela. Ragazzi, quando vi dicono che qualcosa è a vostra tutela, dite lì, per favore state buoni, ci pensiamo noi alla nostra tutela, cosa che scrivo chiaramente qua dentro, attenzioni a quando vi vogliono fare del bene. Le sardine fanno del bene alla sinistra? Beh, la cosa è dubbia, la verità dice che sono tutti prodiani in un pezzo di Daniele Capezzone, la prossima manifestazione è fatta da Jahal Hussein e Samar Zawi, penso che si pronuncilo così, ma sono italianissime, per carità non lo voglio mettere in discussione, sono le leader, la leader e il leader delle sardine che andranno a Modena, perché Salvini a Modena fa una cena con 400 persone e fuori c'è la manifestazione. Secondo voi questo è il tema grande politico in questa Italia che sta sott'acqua, cioè andare a seguire Salvini per fargli la manifestazione contro? Forse sì. Il Papa intanto riceve 1500 bisognosi in Vaticano e decide di far servire loro le lasagne senza maiale per rispetto nei confronti dei musulmani seduti al mensa con lui. Così è, se volete. Questa sera, Quarta Repubblica, parleremo della Casa della Trenta, parleremo del caso Ilva e parleremo di un altro tema fondamentale. Siamo sicuri che sono Salvini e Meloni che mettono odio in questa società e invece questa non sia una società in cui ci sono istigatori come quel delinquente verbale di Toscani, come quel saccentino di Lerner, come quel sottutto io di Saviano che oggi scrive un pezzo, insomma, proprio che ha questa logica, diciamo, trombonesca, vi spiego io. Ecco, ci sono più istigatori o più odiatori? Insomma, sapete bene come la penso e questa sera ve lo spiegherò nel mio punto di vista o quello dei nostri ospiti, molto chiaro. Ciao a tutti quanti, un grande abbraccio a Instagram, Facebook, sito nicolapaorro.it e gli youtuber che ci seguono sempre di più. Ciao!